Ciao a tutti, io sono Andrea Io invece sono Dennis Oggi ragazzi siamo qua su Brawl Stars perchè dobbiamo completare il box opening delle stagioni precedenti che erano uscite perchè purtroppo non siamo riusciti a farle in tempo e quindi quest'oggi partiremo con la stagione 11 poi dopo passeremo alla stagione 12 Esatto Vai Dennis possiamo pure partire, parti pure con le casse Ah io apro il brawler ovviamente Eh io non ce l'ho perchè non ho potuto comprarmi il brawler pass quindi Ah io voglio fare una cosa perchè voi vedete io ce l'ho già e vedete ma come è possibile molto semplice non si sa come ma vabbè in realtà si sa ho aperto una cassa un po' di tempo fa e ho trovato Eve una cassa così cioè quindi io adesso teoricamente Oddio vabbè questo urla ogni tanto vabbè vabbè stavo dicendo praticamente cosa succede? ho trovato Bonny hai trovato? ho trovato Bonny fai schifo fai schifo no vabbè ragazzi cioè abbiamo appena aperto tre casse tre casse ho aperto Danese stavi dicendo prima? cosa? stavi dicendo una cosa ai ragazzi ah e ho sbloccato praticamente ho sbloccato Eve con una mega cassa una cassa di nuve non so non mi ricordo perchè è passato un po' di tempo e enticamente l'ho sbloccata così e quindi praticamente posso vedere il brawler mi darà una una cassa enorme abilità selare di PAM abilità selare di PAM vendetta materna e io ce l'ho ok ragazzi allora stiamo continuando a fare adesso il nostro box opening Dennis tu hai già iniziato a fare si si io sono alla soglia 8 ah ok io sono alla soglia 15 adesso io ragazzi ho trovato già un brawler e un'abilità selare Dennis ancora non ha trovato nulla perchè vabbè appena ha incominciato ad aprire le casse e magari vediamo se più avanti anche lui riuscirà a sbloccarsi qualcosa di interessante esatto e ragazzi noi vi ricordiamo come sempre di andare a rivedervi anche il video quello di GTA nuovo che è uscito perchè è molto importante anche quello lì quindi andatevelo a rivedere io adesso i punti quelli lì che trovo li do al brawler quelli nuovo c'è al brawler quello di nuovo ho trovato dov'è 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 ragazzi non lo vedo non lo trovo il brawler dov'è non lo trovo ma eccolo qua allora ero io cerca andavo troppo veloce ok altri punti altri 50 punti va bene li do sempre a lei ok vabbè ma 10 punti di energia te li puoi mettere anche dove non batte il sole per quanto mi riguarda no no niente ancora nulla ok aspetta c'è oh 200 raddoppio gettoni buono altri 10 madonna che schifo 10 10 punti di energia stessa cosa che è successo a me prima ragazzi non andiamo troppo troppo lenti perché comunque abbiamo due box opening da fare quindi dobbiamo andare abbastanza spediti e io non faccio non troppo lenti non è troppo veloce il giusto il video dura tre anni anche io l'ho aperta una all'inizio però ci sono sei schifo e questa cosa non mi dispiace quindi oh ma mi tassero qualcosa manco se prego scusate l'interruzione comunque proseguiamo con il nostro box opening ancora oggi scusate ma ci sono un bel po' di interruzioni ok colt low e spike ok si per il mio telefono che è un deficiente però tutti piccoli dettagli uno skip luminoso ok un gadget di spike di squeak scusa di squeak di squeak ok buono dai allora dov'è il mio brawler che ho trovato prima eccolo qua ma bonnie è un nuovo brawler poi mi sembra di si ah ok io sono alla soglia 47 Dennis tu a che soglia sei io 40 ok siamo più o meno vicini 41 scusate ragazzi ho trovato una verità stelle di Eve a caso in una cassa bene comunque ragazzi vi stavo dicendo scusate se vedete un pochettino il mio telefono che magari lagga nelle casse e robe così ma vi giuro che questo telefono qua devo buttarlo al cesso e comprarne uno nuovo più decente perché guarda ho comprato il suo telefono per il meglio e l'ho preso per il peggio fa cagare questo telefono veramente ve lo giuro che poi non è tanto un telefono brutto è solo che dopo ci scarico applicazioni per la scuola giochi app che uso io e quindi dopo il telefono logicamente si riempie ma se no sai comunque il telefono non fa schifo vabbè diciamo che mi sa che il telefono è più per uso da anziano vabbè ha 64 giga a disposizione non è che sono pochi e il problema sono io che lo riempio troppo velocemente perché ci scarico dentro un sacco di roba ancora io ho finito con il box opening devo tanto aprire le megacasse ok io sarò a 50 ma tu le megacasse Dennis le hai lasciate per ultime o le hai aperte ok no le ho lasciate per ultime poi ragazzi dopo tutti questi raddoppiaggettoni a parte la prima che mi sono dimenticato poi ragazzi tutti questi raddoppiaggettoni poi li utilizzeremo comunque noi giocando o con il video senza comunque comunque ho trovato una cassa con 6 skip quindi speriamo in bene vai ok gadget di fang ma che cosa mi servono 10 gettoni te li puoi conficcare dove non batte il sole 10 punti di energia volevo dire scusate eh infatti te li puoi ficcare dove non batte il sole no e finalmente non vedevo l'ora di aprire sto cavolo cosa hai trovato nella cassa braw l'ho trovato mag ma che culo del cacchio che c'hai sculato del cavolo vabbè siamo entrambi un brawler dai non mi posso lamentare abbiamo trovato tutti e due un brawler buono dai scusate per la schermata ma era lo screenshot vabbè lo screenshot nella cassa brawl nella cassa piccola ah tu hai fatto lo screenshot cavolo potevo farlo anche io lo screenshot mi son dimenticato merda vabbè merda subito i punti stai calmo scusate ma adesso aspetta poff mazza tutto sei sei skip sei sei skip ti prego dammi un altro brawler giuro che se trovo un altro brawler questo telefono lo lancio dalla finestra meno male che la finestra è chiusa non è aperta almeno per quello gadget di ho provato un altro brawler l'ho trovato bonnie oh danny si è rotto la m***a oggi eh nella cassa è dove è stiamo in comité la memoria piena di quella m***a ok vabbè ragazzi allora noi abbiamo quasi finito cioè io ho finito dennis sta finendo di riscuotersi le ultime le ultime casse le ultime cosine lì e comunque non riusciamo a fare oggi il box opening cioè pure dell'altra stagione lo facciamo solo di una e poi dell'altro video lo faremo nell'altro video la prossima box opening va bene in un altro video lo dividiamo in un altro video lo facciamo nel prossimo sempre per problemi tecnici ovviamente perché si ci sono dei problemi tecnici del mio telefono che è un deficiente come vi ho detto ho il telefono babbo e come vi ho detto devo cambiarlo quindi si perché gli dice memoria piena e prima gli dice memoria piena e poi gli dice ah la batteria è scarica non puoi registrare il video e prima la memoria piena ma e la batteria e vai a quel paese rotto le palle però che cacchio ce n'è sempre una scusate però cioè veramente ogni volta quando andiamo a registrare un video ce n'è sempre una ma soprattutto di brawl stars perché è sempre così vabbè anche per gta per poi no vabbè però con gta non è che ti dice memoria piena e ti si so pacazzo però scusate la parola per quello di essi hai ragione anche te alla fine gta ci sono stati pezzi di m***a che ci rompono le scatole però almeno riusciamo a registrare sul mio telefono ragazzi ormai è morto cioè non possiamo più fare video dal telefono da ora cioè devo cambiare il telefono sei skip ho trovato la metà stellare di eve bene bello perché il mio problema ragazzi è altri sei skip la metà stellare di groom bene perché ragazzi in realtà non so se è un problema più che altro del perché io la scheda sd ce l'ho piena perché ho un sacco di foto scaricate e un sacco di foto che ho fatto e tutto il resto però non penso che sia un problema delle app perché alla fine di applicazione ho disinstallato tutti i giochi nel telefono che avevo l'unico è rimasto Brawl Stars e Minecraft quindi cioè per farvi capire quanti cioè io ne avevo una marea prima di giochi poi ne ho dovuto disinstallare tutti perché per cercare di fare il video ma non è cioè ha aiutato ma ha durato tre minuti cinque minuti quant'è durato quindi cioè io tipo nel telefono adesso per farvi capire ho tipo 669 foto per farvi capire però queste foto voi direte madonna però il problema è che le foto non sono trasferite cioè non sono delle foto che sono dall'interno del telefono cioè non sono delle foto nella scheda SD quindi comunque la memoria non è che si diventa così tanto piena alla fine vabbè raga io cosa faccio io spammo cioè nel senso faccio veloce perché sono buonanotte sogni d'oro va bene cioè anche se io spammo un po' perché faccio con due dita infatti come lo vedete dov'è dove è boni 46 mega cassa enorme lo so che vado molto veloce ma devo essere veloce siamo già troppo lunghi con il tempismo esatto quindi ci conviene andare cioè gli conviene non ci conviene gli conviene andare veloce dai tanto sto andando veloce ma si vede cosa? uh gadget di mag cassetta degli attrezzi tieni tanto sbaglio però fa niente mag gadget power bank sono stato scemo che ho usato i punti d'energie prima però vabbè tanto ho anche l'altro brawl pass quindi c'è niente c'è cacchio di gacci a te power bank è perché mag si può trasformare in un mega mega e un mecha scusate volevo dire abilità stellare di sandy tempesta violenta e altri 44 punti di energy oh posso potenziare bonnie vediamo se trova meno i suoi gadget almeno non posso eliminare roba che non dè scusate se questo video ragazzi sta venendo un po così ma d'altronde non possiamo toglierlo via ci abbiamo trovato alla fine una marea di roba quindi ho trovato il gadget di bonnie mentre parla però comunque adesso ci risuono sono entrato dentro al gioco però comunque presto lo cambierò sto telefono ho finito basta adesso ce l'ho a stadione 12 da prendere che la prenderemo poi la prossima vabbè vi ho dato uno spoiler ho già completato tutto il brawl pass anche quello precedente però fa niente maria santa cioè io ragazzi sono al io sono alla soglia 36 io invece vabbè adesso ve lo faccio vedere io sono alla soglia 70 con 12 casse enormi in più di bonus non c'erano tantissimi io faccio 40 50 ragazzi allora noi anche se questo video è venuto un po' male un po' strano speriamo come sempre che vi sia piaciuto lasciate like e iscrivetevi al nostro canale e noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao 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 a tutti ciao ciao